Firenze perché già mi era dispiaciuto che non ci fosse nella prima parte, però l'idea all'inizio non era di fare un grande tour e quindi ho privilegiato la grande festa nella mia città, Bologna, il 20 dicembre. Poi, dato che il tour è stato bellissimo e abbiamo avuto questa voglia di riprendere, ho pensato a Firenze come partenza ideale, è un'altra città molto importante vicino alla mia e quindi addirittura mi piacerebbe un po' come fatto a Bologna, anche a Firenze, rifare questa grande festa con tanti ospiti, tanti amici del disco e anche che non sono dentro a questo disco fisico e politico, proprio per ripartire con una festa molto simile a quella di Bologna anche qua a Firenze. Un'interpretazione delle canzoni scritte da altri colleghi, una novità, ma tu ti senti principalmente autore? Sì, io mi sento assolutamente autore, tanto più che rispetto a tanti altri artisti che hanno sognato di cantare o hanno cantato da subito, dall'adolescenza, insomma hanno avuto sempre magari l'istinto di seguire con attenzione la parte canora, io a 14 anni ho fondato una band dove scrivevo le canzoni su una chitarra ma non cantavo, c'era un cantante e poi mi sono trovato quasi per caso, quando questa band si è sciolta, a canticchiare le cose che scrivevo, ma diciamo che senza nessuna tecnica e come dicono alcuni giornalisti, sono punk anche nella voce. Ma questo è un verso che mi hanno contestato in tanti, ma in realtà quella canzone parlava di aspetti negativi di ogni tifoseria, quindi diciamo che poteva essere per i bolognesi o per... nel senso che le tifoserie sono poco sportive e nella rima capitava la Fiorentina e l'ho anche un po' pagata perché una volta ormai mi menano in un autogrill. Però non diciamo che in questa canzone do lo stesso valore a tutti i campanilismi di tutte le città. Trent'anni di carriera, qual è la canzone che alla fine caratterizza Luca Carboni? Non ce n'è una, credo che proprio perché sono passati trent'anni ti accorgi girando indietro che le canzoni, anche quelle che durano nel tempo, quelle che magari hanno resistito, però comunque sono per me personalmente tutte figlie di momenti particolari della mia vita, sono dei pezzi di vita e quindi diciamo quello che ti rappresenta è l'insieme del percorso perché ci sono momenti diversi e non ce n'è uno che riassume tutto quello che sei. Però possiamo dire che dopo trent'anni di carriera hai ancora un fisico bestiale? Ma dato che il fisico bestiale era una metafora dell'energia interiore che ci vuole per vivere, penso di sì. Ci vediamo 6 maggio che se... insomma faremo una grande festa non solo con me ma con altri artisti, cercheremo di fare veramente un evento qua a Firenze insieme a loro. Grazie. Grazie.